È il più rivoluzionario dei videogames! È Donkey Kong Country! È l'inafferrabile gorilla in una giungla di avventure e di livelli! Donkey Kong Country! È il videogioco più potente mai realizzato! È Donkey Kong Country! È un divertimento bestiale con grafica tridimensionale! È Donkey Kong Country! Donkey Kong Country! Solo con la console Super Nintendo! Da giro! Doe la console e game over!